buongiorno andiamo con i fumogeni fumogeni, petardi la tua ascella coperta oggi ragazzi riprese di space valley in termica perché finché filmo così va bene ma quando poi scendo gira ma Cesare che figurino sei vieni qua alla luce, vieni qua alla luce mamma mia ragazzi mi sto guardate che carino Nick che non arriva a toccare i piedi per terra quando è seduto abbiamo appena finito il primo video che doveva registrare oggi, adesso facciamo un salotto è venuto bene però abbiamo mangiato un sacco di cose schifose tipo questa io non la vedo sono Bic che praticamente escono sei Bic ma ti chiamano Bic perché sei altro una penna e un tappo disiscrivetevi non fatelo se no non mangio più ok aspetta chi è che ha detto calcio? 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 ma chi è che ha detto torino? chi è che ha detto torino? io non seguo il calcio no sono le porte nel calcio cosa state facendo? mi ha rubato la giacca ah ti devo vendere una giacca Nicolò aspetta che la prendi il salotto lo faccio così non stiamo facendo parlare robine ma stiamo facendo sorteggiare in modo misterioso roba esatto esatto ma è bello ma è bello dopo ne parliamo è una bella giacca davvero ma cos'è un gatto? ragazzi ma te la devo pagare? si me l'ha data mia madre però non mi stava piccola ma vedo il calcio l'acchio beh 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 se la tieni così minchie se la tieni così bella ma è soffo frank dovrei frank perchè possiamo dire sono qui ma la mia telecamera quella? ma la mia telecamera quella? tonno si ha fatto un tatuaggio stacca 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 dai la non dovevi farlo vedere una sorpresa La vera sorpresa sapete qual è? Frank Ciao ragazzi Ciao Blog in upload Boom, è deciso Come trascorrere i prossimi momenti nerd L'avete deciso voi Nel mio gruppo su Facebook Nella gilda di Nels ha vinto Footwars 2 TAAANANAAAAAAA Buona visione, buona visione Buona visione nerd E approfitto per mangiare un po' Sono ancora pienissimo da ieri e l'altro ieri e ho mangiato davvero troppo cibo, sto male, ho stato male, cioè stavo morendo, quindi sarà il mio pranzo. Mi sto anche preparando un caffè perché stanotte tra una cosa e l'altra ho dormito due ore e mezza per poi svegliarmi e fare Space Valley, quindi sono abbastanza cotto e oggi devo lavorare tutto il giorno tra vlog rifinitura e montaggio del vlog girato venerdì a quel lavoro a Milano che ho fatto, che vedrete presto appena me lo approvano, e tanto tanto altro. Quindi, 20 minuti di anime. Animo! Era un sacco che non lo diceva. Papa, caffè e poi ci si rimette al lavoro. Heck yeah! È tempo di rimettersi a fare qualcosa di utile. Penso mi stia venendo la febbre, sto un po' in pezzi. Prima mi ha suonato il corriere, sono sceso con la telecamera e è arrivato giù e mi sono accorto che non c'era l'essere di dentro, ma poco conta. Sto per vomitare, c'è qualcosa che non va con la mia salute. E' arrivata la nuova webcam, perché è quella che uso io. E' questa qua ed è tutta rotta, non è neanche il 1080. Questa qui è una nuova webcam che mi sono comprato su Amazon, trovate il link per sbirciarla sotto in descrizione. Logitech 1080, 15 megapixel, autofocus, due microfoni. Insomma, una bella beccia di videocamera. E' quella che usano un sacco di stream, un sacco di persone che giocano ai videogiochi online. E l'ho presa apposta, non per spogliarmi in webcam, non per usare Skype, ma per fare streaming di videogiochi. Infatti in questi giorni mi sono rimesso insieme ai miei friends, e lo vedete tra qualche vlog che è appunto quello del lavoro, conclude con una live che abbiamo fatto su Twitch. Mi sono rimesso a Twitchare, stremmare. Trovate il link in descrizione per seguirmi e ho deciso di fare questo piccolo upgrade per due motivi fondamentalmente. Uno, l'altra è veramente inchiavabile. Due, questa qua in teoria è più adatta a sessioni di gioco di gruppo. L'altro giorno abbiamo fatto questa live in quattro, eravamo io, Ton, Cesare e Frank, in cui facevamo un livello ogni donazione. E abbiamo streamato per quattro ore e mezza, una cosa del genere, perché continuavate a donare. E abbiamo finito tipo alle tre e un quarto di notte piangenti a momenti, quindi mi sembrava il momento di fare questo mini, 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 mini investimento. Seguitemi su Twitch. Adesso. Ora. Come comunica questo messaggio abbiamo superato i 4.000 membri nel gruppo. E viva, e viva, e viva. Abbiamo superato anche i 4.000 membri qui su Telegram. Ninja. Avrei mille cose da fare, perché devo finire di montare quel video di quel lavoro lì, ma lo finirò domattina o più tardi. Perché adesso? Riunione Space Valley. Mangiando. Bella raga. Bella raga. Oggi è Cesare con la giro. Visto? Ormai io sono guarito. Puoi dirlo, Narsi? Sono guarito. Sono guarito. Babino. Bella raga. Bambambambambambambambambambambambambambabambam. No, non tacita. Fatto, si va. Ciao ragazzi. Che sonno. Che son pieno. C'è altro che mangiare in questi giorni. Solo che non è che posso tornare a casa e mettermi a... Merdare o dormire perché mi sono organizzato male molto male a ne approfitto Se qualcuno vuole farmi da balia commenti qui sotto cerco assumo una balia balia Non posso Montiamo Ciao sono Nelson e sono una persona responsabile Finalmente vado ufficialmente a dormire Sono davvero 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 stanco Forse perché stanotte ho dormito due ore e mezza Forse Grazie per aver guardato questo video Ho visto che il video che ho pubblicato oggi C'è la verba bagnata Alla fine del video ho detto Arriviamo a 4000 like Proviamo Senza promettere nulla in cambio E ci è arrivato subito Oggi Day one Quindi ho deciso di provare a fare un altro esperimento Proviamo ad arrivare a 5000 5000 Eh? Batteria scarica Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Seguitemi sui social network Che trovate in descrizione Seguite tutto quello che trovate in descrizione Perché Fatti brevi Che faccio questa scena dove dormo per finta Che poi tanto Non sono neanche credibile Dato che sono con la telecamera in mano La luce è accesa Mi diverto Ciao Ciao Grazie per la visione!